Un terremoto è stato registrato in una regione della Corea del Nord in cui si era di recente svolto un test nucleare. Il centro sismologico cinese ha stimato la magnitudo in 3.4 e definito la scossa come sospetta, ma l'Organizzazione per il Bando Complessivo dei Test Nucleari, che riferisce di due scosse, sostiene che difficilmente possano essere state provocate dall'uomo. Analoghe le conclusioni dell'Agenzia Meteorologica della Corea del Sud, che già in precedenza aveva stimato la magnitudo al 3 e parlato di cause naturali. Tutti i precedenti test nucleari di Pyongyang avevano provocato scosse più potenti tra il 4.3 e il 6.